Agente, stiamo intercettando delle comunicazioni del battaglione. Pare che abbiano ricevuto lo stesso messaggio dell'immunologo. Scandaglia il consolato e trovalo. Ti faremo sapere se individuiamo dei nascondigli. Agente, stiamo intercettando delle comunicazioni del battaglione. Pare che abbiano ricevuto lo stesso messaggio dell'immunologo. Scandaglia il consolato e trovalo. Ti faremo sapere se individuiamo dei nascondigli. Coprite milioni! Flashback! Aiuto! Merda! Passi, passi via! No! Ma non si è giudillo! In l'ultima ruota, passi via! Attenzione! Il G in arrivo verso la tua posizione. Merda! Sassi da contatto! Sassi che il G in arrivo verso la tua posizione! Molto bene! Sassi che il G in arrivo verso la tua posizione! Sassi che il G. Sassi che il G in arrivo verso la tua posizione! Milla scattare la tua posizione! Benissi che la tua posizione... при IG in arrivo verso la tua posizione! waste da più se anche gli uhistini! Faiselo! Io stuputo! Milla scatare la tua posizione! Cock! È il momento di una flashback! Sono bloccato fuoco di copertura a scala! Ciao, amico! Non mi fate paura! Gah! Sp robotics in automatici! Spirigologia! 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 Stemela! Conversa! Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. Yes, nemici a terra! Scusate la loro posizione! Arrivati! Sono un uomo a terra! Eliminiamoli! Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. No! 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 Go! No! Ma Cernenko stava lavorando, nonostante tutto, quindi note, diari, materiale del genere. Occhi aperti, ok? La Shade sta accumulando un sacco di hardware. Cosa ci faranno i russi con tutta quella potenza di calcolo? In circostanze normali penserei allo spionaggio, ma mi sembra più probabile che Cernenko stia usando tutti i processori per qualche modello analitico del virus. Stiamo scaricando i suoi dati. Di cosa si tratta, dottoressa? Sono file con RNA mappati. Non so a cosa servono, ma sono di Cernenko. Una mole di dati genomici. Agente, mi servono. Mi servono tutti. Che succede? Agente, i dati si sono fermati. Siamo vittima di un hack. Agente, è stata senza dubbio una tecnologia della Shade. Il che significa che c'è qualcuno in zona che la sta usando, quindi abbiamo un nuovo pensario. Recupera quella tecnologia e i dati di Cernenko. O ne ritieni più fortuna? Agente, è stato un po' di cattolino. 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 Senti! Senti! Sistema di sicurezza. Sistema valutato. Protocolli di sicurezza disattivati. Porte di sicurezza aperte. Flash è in guantata! Dovete armontermi! Via da me! Fuoco! Fuoco! Attacione! Lancia una faccia! Fuoco del bravo! Fuoco del bravo! E quale motivo ti nascondi? Avanziamo e conquistiamo la zona! No, 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 no! 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 No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no!